Come detto, questa notte è la cerimonia degli Oscar in diretta da Los Angeles. Grande attesa per la partecipazione di Laura Pausini, ma comunque il grande cinema italiano che torna a correre per la statuetta. E con noi Bianca Chiriatti, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Con lei facciamo un po' il punto della situazione. Bianca, come stai? Buona domenica. Buongiorno, buona domenica. Buongiorno a tutti. Ebbene, pronta per questa maratona di Oscar. Insomma, un bel caffè e siamo pronti per stanotte. Sarà lunga. È lunghissima, ma è troppo lunga. Quante ore dura? È impossibile da vedere tutta. Comincerà il prescio intorno a mezzanotte e un quarto. La cerimonia inizia verso le due, ma sarà davvero una nottata infinita. Molto bene, tu la seguirai, quindi più caffè durante il giorno a partire da adesso. Allora Bianca, che cerimonia sarà con tutte le incognite e i fattori X anche quest'anno legati evidentemente alla pandemia? Intanto è stata posticipata di due mesi, questo è sicuramente un elemento. Poi sarà comunque una cerimonia in presenza rispetto a tutte quelle che abbiamo visto sulle varie piattaforme, perché non ci saranno mascherine per divi e registi. Ci saranno due grandi gruppi che si incontreranno a Los Angeles, uno nel classico Dolby Theater e uno a Union Station, poi con altri collegamenti anche da Parigi, da Londra, da vari posti dove ci saranno i vari presentatori, tra cui Brad Pitt, Ali Berry, René Zellweger, che consegneranno in presenza le statuine e verrà trattata proprio come se fosse un film. Quindi ci sarà il regista che è Steven Soderbergh, che comunque è grande esperto. Quando le telecamere passano tutti i divi saranno senza mascherina, vestiti eleganti, eccetera, poi durante le pause pubblicitarie invece la mascherina ritorna al suo posto. Sarà interessante, sarà comunque una cosa nuova da vedere. Ma saranno tutti distanziati in platea? Sanremo era vuota, qui magari non lo so, mi immagino, non lo so, Brad Pitt, posto vuoto, e Steven Spielberg, posto vuoto, tutto così. 170 persone tra l'altro possono partecipare alla cerimonia solo chi ha in nomination, un ospite, c'è un più uno garantito per abbracciarti durante la premiazione e i presentatori. Se non rientri in queste categorie sei a casa, anche se sei un pezzo grosso di Hollywood. E tra l'altro chiunque ha ricevuto l'orario d'ingresso tutto molto scaglionato, distanziato, sicuramente andrà bene. Bisogna prenotare il treno, no? Immagino per arrivare, quindi meglio saper l'orario. Senti Bianca, allora, in attesa della serata, come detto, sarà una lunga serata, più di Sanremo, a proposito, citavamo il festival. Facciamo poi il punto anche sulle statuine, appunto, miglior film, miglior attore, attrice protagonista, insomma, i favoriti. Senti, quest'anno la lotta è bella, bella grossa. Intanto, vabbè, come film c'è stato Nomadland, che è il titolo più premiato dell'anno, che non dovrebbe avere problemi a vincere la statuina come miglior film, ha vinto anche Leone d'Oro a Venezia. Però ci sono comunque delle incognite. Questo Menk, che ha ben 10 nomination, e poi c'è Minari, questo film costruito, insomma, anche in tandem con la Corea, che è molto interessante da vedere. Vedremo che cosa succederà. Le sfide vere sono quelle fra gli attori e soprattutto fra le attrici. L'attrice e protagonista c'è una sfida apertissima tra Viola Davis per questo film, Marenis Breakbottom, che pare sia bellissimo. Io non l'ho ancora visto, ma pare sia veramente bello. Frances McDormand e anche Carrie Mulligan per questo film, una donna promettente. Mentre fra i miglior attori ci sono state alcune prove eccellenti, come Anthony Hopkins, che dovrebbe essere leggermente avanti con The Father, ma c'è questa statuetta che potrebbe andare postuma a Chadwick Boseman, sempre per il film di Marenis, perché purtroppo Boseman è mancato lo scorso agosto dopo una lunga malattia, quindi potrebbero, insomma, aver deciso di darglielo postumo. Sarà aperta, sarà aperta, vedremo come andrà a finire. E poi, Bianca, l'attesa, lo ricordavamo poco fa, è tutta per Laura Pausini, naturalmente l'abbiamo vista ieri sulla terrazza dell'Academy Museum, con questo tagliore dorato, ha svelato anche qualcosa di quello che sarà il pre-show. Con Diane Warren, esatto, lei si esibirà durante questo pre-show che si chiama Oscar Into the Spotlight, dove tutte le cinque canzoni in gara, quattro su cinque, in diretta appunto da questa terrazza, e Hjusavik, che è il brano in gara tratto dal film The Fire Saga, The Story of Fire Saga, che è il film sull'Eurovision, che invece verrà trasmessa, insomma, la performance verrà trasmessa da un piccolo porticciolo in Islanda, proprio per ricreare quell'atmosfera. Sarà proprio un pre-show di 90 minuti con tutte queste cinque canzoni in gara, ci sarà appunto anche tanta tensione per Laura Pausini, che è in gara appunto con Yossi, Sin, che è questa canzone in cui lei ha anche partecipato come autrice. Un film girato di gran parte nella mia Puglia, di Edoardo Ponti con Sofia Loren, quindi io, diciamo, sarei anche molto felice di vederlo sul tetto. Vedremo che cosa succederà. Speriamo bene per l'Italia, che tra l'altro, ricordiamolo, concorre anche nelle categorie Migliori Costumi, Miglior Trucco, con Pinocchio di Matteo Garrone. Ci sono poi gli ambiti in cui qualche statuetta ogni tanto la portiamo a casa. Esatto, gli ambiti tecnici, sì. Bianca Chiriatti, grazie per questa chiacchierata sugli Oscar. Buon lavoro e buona giornata. Grazie a voi, buona giornata a tutti, auguri.